Si intitola Mala ed è il nuovo brano musicale di Elettra Lamborghini. Pensate che questo, chiamiamolo brano musicale, sta ottenendo un sacco di visualizzazioni, più di 2,8 su Spotify, il video invece raggiunto, pensate, quota 8 milioni di visualizzazioni. 4 minuti di musica pura con chiappe, quindi con natiche leopardate in bella mostra, in primo piano, alternate da manette, scollature verticose, baci lesbici e chiamiamoli i più sentiti e i più famosi luoghi comuni dello stile ganga. Numeri davvero pazzeschi per un brano musicale intitolato Mala, spagnolo, tipicamente spagnolo, che davvero sta letteralmente crescendo sensibilmente in termini numerici. Una musicalità, un contenuto affascinante, insomma, Elettra Ciderizia, grazie al suo fascino immenso, grazie alle sue natiche sode, grazie ai suoi glutei perfetti, sapendo di intavorare sensualità in maniera completa, totale e soprattutto accessibile a tutti, a chiunque, a nessun escluso. Non è, diciamo così, un video erotico, non è un video porno, non è un video vulgare, è un video in cui la sensualità, il fascino, lo stile, la bellezza e soprattutto la creatività gluteiana, chiamiamola così, di questa bellissima ragazza che è Elettra ben fuori, con molta capacità e con molto garbo. Lo saluto e il video termina qua. Iscrivetevi al prossimo video da Naratore Italiano.